Siamo arrivati a approcciare la mia bata favorita Buonanotte a tutti, come stai? Oggi siamo a Gdansk e proviamo a spaventare le bata Ragazzi, è iniziato a rincare, non so se stiamo a prendere il caic Lì c'è il centro di Gdansk e lì c'è lì dove vivessero nel 2013 Questo balcone era mio e una volta uno dei miei amici Rentò questo hostell, era incredibile perché potremmo guardare l'altro dalla finestra Guardate questo bata, è probabilmente così piccolo che con il mio peso, magari Pietro può arrivare inizio Siamo rincare tre caic e spaventare da lì al centro di Gdansk Quindi abbiamo il nostro caic giamaicano Quindi abbiamo alcuni tassi qui qui e stiamo parlando di inizio di Fabio Inizio Fabio Inizio la migliore parte della città, come il centro, il Stere Miasto, è principalmente sull'interno Questo è un paese molto importante di Gdansk In cui, nel medioevo, stavano spaventando le bata e mettendo le cose inizio o inizio Questo bata là è un museo Pietro sta rilassando tanto, non credo che non farà nessun sport oggi Pabio è riuscita da questo bata Qui c'è il Hilton hotel, se c'è il bata, e questo bata è molto nuovo Perché l'anno scorso non era lì Non li credo, li potrebbero comprare Siamo arrivati a approcciare il mio bata preferito Qui c'è il bata, qui in Gdansk Guardate questo, ci sono ancora dei documenti inizio E ora è una grande casa per le spaventate Ho solo la competizione contro il mio frate Allora ragazzi, dopo il kayak Fabio è riuscita a vedere questa città di friari Ora stiamo rilassando questo organo che ha fatto circa 500 anni Siamo tornando nella stagione principale Ora proviamo un po' di poesia C'è un po' di poesia C'è un poesia C'è un po' di poesia Ora stiamo cercando di arrivare al Museo Solidarnoscì Quindi siamo pronti per andare dentro al museo Mi piace questa biblioteca, voglio essere qui C'è un po' di poesia Solidarnoscì È un movimento che iniziava da lavoratori polisi Striciando qui in Gdansk E finalmente ha avuto la liberazione di polandia Comperto di russia Striciando qui inizia Fizziamo in Reggio Striciando qui inizia Provo questo Inizia Striciando qui inizia La prima parte inizia Mozi E' un poesia Non stai E' un poesia Striciando qui inizia Typical market during communism time. It's a very good idea. Grazie a tutti. This pretty view is from the sixth floor of the museum and it's possible from here to admire the Stochnia, where they were building the boats, which is over here, let me show you. So we left the museum and now we are going to check if we can find some basketball shoes for Fabio. Guys, we finally found the shoes for Fabio. Let's go. Me and Pietro had to put some money because he is a fryer, but everything is fine and they fit perfectly. We are back home and Pietro doesn't have the energy to go out tonight, so hey, what the fuck? So I was thinking that at least for us that's it for today. Thank you for watching, keep reading and believe in your dreams. Bye. Bye. Grazie a tutti